ehi amore mio ma è tutto bene si hai avuto tanti compiti oggi e che stai studiando storia papà posso farti una domanda certo amore ma noi da chi discendiamo noi discendiamo da adamo ed eva ma la mamma mi ha detto che l'uomo discende dalla scimmia la mamma mi ha detto senti amore una cosa è la famiglia di tua madre e un'altra è la famiglia mia non mi schiavlerà capito? magari se ti vedi di mamma ti faccio la scoglia capito? dai studia studia amore dai ma che bella